Il set dal quale vi parlo non è quello usuale, purtroppo per motivo delle restrizioni igienico sanitarie. Ci troviamo nella condizione di dover utilizzare gli studi di Radio Vangelo Roma. Ciò non ci impedisce di leggere la parola di Dio e di incontrarci seppur a distanza. Non possiamo non fare riferimento al periodo, alla crisi, al timore, alla paura. Non possiamo ignorarlo e non vogliamo ignorarlo. Piuttosto che far finta di nulla o, al contrario, scadere in una sorta di trionfalismo e di autoesaltazione, così come ci ha insegnato il Signore Gesù nei Vangeli, guardiamo in faccia la realtà, anche se non è la migliore fra tutte quelle possibili. E questo ci serve ancora di più come sprone per rivolgerci al Signore. Prima di leggere un testo della parola di Dio, un testo della Bibbia, il nostro pensiero va necessariamente a quanti stanno per amore degli altri o, se volete, per dovere, comunque mettono a repentaglio, stanno mettendo a repentaglio anche la loro incolumità. A questi cari va il nostro pensiero e anche la promessa, finora mantenuta, di preghiera per loro. Bene, leggiamo dunque un versetto, soltanto un versetto, nella terza lettera di Giovanni. E il versetto è il secondo. Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute, come prospera l'anima tua. Letto tutto d'un fiato il testo della terza lettera di Giovanni ci induce a quasi trascurare le parole che abbiamo letto, perché rientrano nella norma, nel buon uso che tutti, quantomeno sotto il profilo formale, seguiamo allora quando scriviamo, anche se un po' meno rispetto una volta, delle lettere. Insomma, c'è una formula di cortesia, d'apertura, di buon augurio. Spero che questa mia vi trovi in buona salute. È un'espressione che è formale, ma in qualche modo anche doverosa. Lo stesso potrebbe accadere in una lettura, dicevamo, tutta d'un fiato della nostra lettera. Ma se invece ci fermiamo al testo in sé, così come abbiamo fatto, emergono delle considerazioni, emergono dal nostro cuore, dei pensieri che non sono per nulla scontati, soprattutto in questo tempo. Infatti Giovanni, rivolgendosi al suo destinatario, il quale aveva tra l'altro un bel nome, si chiamava Gaio, dunque, stando al nome, un buon augurio gli avevano dato i genitori, una persona insomma contenta, felice. Scrivendo perciò al fratello, al pastore, diremmo oggi Gaio, gli augura in primo luogo buona salute. E non è un gesto formale. Diamo per scontato, dicevo, non solo l'apertura di una lettera, alle volte diamo per scontato anche la nostra salute, la nostra buona salute. E rientra, insieme a tanti altri particolari aspetti della nostra vita, in un grande scatolone. Lo scatolone di ciò che è scontato e che si apprezza quando si perde. Vi auguro buona salute, perché innanzitutto da buon fratello in Cristo vuole il bene del proprio fratello e la buona salute fa parte del bene. mi avete già preceduto, mi avete già anticipato con i vostri pensieri, perché oggi la salute è un problema e molti stanno, o forse stiamo, considerando quanto abbiamo poco apprezzato il buono stato fisico. ed altri forse si stanno rammaricando per non averlo curato, coltivato. Ma al testo viene aggiunto altro, e cioè la prosperità. Io prego che in ogni cosa tu prosperi, oltre alla salute, dunque la prosperità generale. Si può intendere economica, si può intendere professionale e altro. Anche quello fa parte del pacco, dello scatolone, delle cose scontate, che non si apprezzano quanto si hanno. Non ci facciamo illusioni. Noi andiamo incontro, se già non siamo, in una crisi economica. Ebbene, abbiamo forse poco apprezzato anche quest'altro aspetto, quel tanto o quel poco certo, che in qualche modo abbiamo avuto. Terzo, prosperità in generale, buona salute. E conclude il testo, così come prospera l'anima tua. Ebbene, terzo, ultimo, ma non ultimo. Perché anche la buona salute dell'anima, forse più degli altri due elementi, è l'aspetto sottovalutato. I motteggi, le battute ironiche, riguardo la fede, riguardo i grandi temi, non solo della fede, ma anche esistenziali. Dove vado, chi sono, c'è una vita dopo la morte. Tutto questo, in tempi di buona salute o di prosperità, in alcuni casi ha generato, dicevamo, ironia, se non sarcasmo. Forse questo è un tempo, invece, nel quale quello scatolone, ciò che ho e che non apprezzo, venga finalmente aperto ed è già stato violentemente aperto, affinché osservando gli elementi in esso contenuti, noi apprezziamo ciò che forse prima non apprezzavamo. E mi soffermo particolarmente, senza togliere importanza ai due elementi precedenti, sulla prosperità dell'anima, perché il nostro apostolo parla di prosperità, di abbondanza dell'anima, non di vita sul filo di lana, ma di prosperità, di abbondanza. E come si misura la prosperità di un'anima? Innanzitutto in termini di salvezza, di rigenerazione. Non di dubbio, men che meno di disperazione. Un'anima prospera nella misura che è rigenerata, dunque è in comunione con Dio, realizza la forza di Dio, l'aiuto di Dio. Un'anima prospera, per usare un'espressione che forse oggi può risultare magari più comprensibile, la nostra vita spirituale prospera, coincide esattamente con la salvezza e con tutti i beni che provengono da Dio. Qualcuno, sarebbe il caso di dire qualcosa, qualcosa dal nome inquietante, virus, vuol dire veleno, qualcosa ha violentemente strappato lo scatolone nel quale avevamo riposto ciò che davamo per scontato e non apprezzavamo. Ed ecco che rotola la salute, la crisi economica, i grandi temi, la fede, la salvezza. Badate, non stiamo in alcun modo utilizzando timori e paure per ingrossare le fila di una chiesa, stiamo semplicemente ribadendo quello che è scritto nel Vangelo. E nel Vangelo è scritto, e sono le parole di Gesù, venite a me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, io vi darò riposo, io vi darò riposo. Stiamo semplicemente additando Gesù. Chi crede in me, sono parole di Gesù, avrà la vita eterna. Facciamo sì che riscopriamo o scopriamo addirittura ciò che è davvero importante ed è un bene che il Signore ci ha dato, la vita, e insieme ad essa la prosperità, la salute della nostra anima. Perché scriveva un famoso canto dell'Antico Testamento, scriveva uno scrittore di canti, l'anima mia è assetata di Dio, poi puntualizzava dell'idio che vive, dell'idio vivente. E poi, anima mia, perché t'abbatti in me? Perché ti commuovi? Perché ti agiti? Spera in Dio. Il Signore vi benedica. Il Signore vi benedica.